Siamo qua con lo Sciale, cosa pensi della vittoria di oggi? Una vittoria importante, noi abbiamo giocato benissimo, una delle nostre migliori partite, ma come ho detto nei suoi vittori ragazzi, queste partite sono importanti da portare a casa, i tre punti. E un altro risultato utile consecutivo, l'obiettivo della squadra? Cinque vittorie consecutive. Sei. Sei? No, cinque, cinque vittorie consecutive. E va bene così. Forza Granol.